...di colpea che disturba... No no, in palla! No, no, no! Scusa, avete sempre in palla? Non sapevo... Ma vanna! Ma mai? Ma è una suda! Gesù che cosa! Se mi pensi sui miei senti... No! Casca la mano! No, la pistola! Giovanna d'Arco e Gesù! Qual è la pistola? E cantano lì di magica, ragazzi! Perché parlano di magica! Ehi! 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 em... Ehi! Ehi! C'è qui incontro! Ehi! Ehi! Certo! Ehi! Ehi! L'invitazione.